Buongiorno, buongiorno, come vede siamo qua in mezzo ad un giardino, come vede le palme ecco e purtroppo è così cosa possiamo fare questa è la palma a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.